Sara Altobello, pronta per il trono overdi e donne, la verità sull'anello di Tony Toscano. Sara Altobello è stata una delle protagoniste più divertenti di questa edizione del GF VIP. Il suo percorso nelle reality si è concluso con una bizzarra proposta di matrimonio da parte di Tony Toscano. Il suo manager è entrato nella casa per chiederle la mano. L'uomo ha raccontato a fanpage Hit di essere innamorato della modella, che avrebbe tenuto nascosta la loro relazione d'amore. Ai microfoni di casa chi sarà Altobello racconta una realtà ben diversa. A Valerio Palmieri azzurra della penna l'ex Jeffina ammette non solo di essere single, ma anche di sentirsi disposa a rimettere in gioco i propri sentimenti in tv a uomini e donne. Credo che il fidanzamento sia uno stato d'animo e in questo momento io non mi sento tale. Per quanto ci sia una grande liaison con Tony Toscano, una grande amicizia. Un uomo che è tutto per me. Dice a proposito del rapporto con il suo manager poi fa un appello a Mari De Filippi, magari potessi andare al throne over. Facciamo un appello a Maria. Mai dire mai, non mi dispiacerebbe la cosa. Sara, Nell's casa, aveva raccontato di essere rimasta rosingata dalla proposta di Toscano ma a tempo stesso aveva confessato di non sentirsi pronta a fare il grande passo. Nonostante il grande affetto che prova per Tony. Un sentimento che, aveva spiegato la vippona. È una forma di amore che va oltre ogni cosa, io non potrei mai anteporre nessun uomo a lui. Nessuno mi ha trattata come mi ha trattato lui. Non abbastanza però per unirsi a lui per tutta la vita, il matrimonio ora non lo sento. Anche se quello che ha fatto Tony per me non lo ha mai fatto nessuno a casa che inoltre rivela, l'anello, era un brillocco finto. Lo aveva sdoganato anche Sonia Bruganelli. Nonostante il grande affetto di Toscano Nonostante il grande affetto di Toscano